Ciao, sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Benvenuti nel quarto video dedicato ai comandi da terminale. Siamo sicuramente ancora ai primi passi, ma se avete seguito bene i primi tre video sarete già in grado di operare su file e directory, di effettuare molte operazioni su file e directory anche su più file contemporaneamente, perché abbiamo visto il carattere speciale asterisco. Ci sono sicuramente altri caratteri speciali, ma l'asterisco è probabilmente il più importante perché ci permette di sostituire uno o più caratteri, una sequenza di caratteri. Quindi con un asterisco andiamo a indicare qualunque sequenza di caratteri. Nello scorso video vi ho fatto vedere una directory con 100 file txt e 100 file jpg. Non vi ho fatto vedere però come creare così tanti file in un colpo. Allora, un modo è touch, per creare dei file ovviamente. Poi se vi ricordate i file erano numerati da 1 a 100 e avevano semplicemente la loro estensione, per esempio l'estensione txt. Quindi vado a creare esattamente questi 100 file numerati da 1 a 100. Come? Apro parentesi graffa, scrivo 1, punto punto 100, chiudo parentesi graffa. Questo significa tutti i numeri da 1 a 100. Quindi in questo momento sto creando dei file chiamati semplicemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, fino a 100. Vogliamo l'estensione txt, quindi scriviamo punto txt. Cosa è successo? Ovviamente abbiamo creato dei file txt chiamati da 1 a 100. Bene, la scorsa volta abbiamo visto anche il ciclo for. Vediamo di effettuare un'operazione con il ciclo for. Scrivo for numero. Sto chiamando questa variabile numero, voi la potete chiamare semplicemente i, di solito si usa la i per brevità. For numero in parentesi graffa, 1, punto punto 100, cioè la sintassi che abbiamo appena imparato, per ogni numero da 1 a 100, sto dicendo per ogni numero da 1 a 100, do, ecco, esattamente questo numero, don. Cosa succederà adesso? Vedremo 100 righe, ogni riga, con un numero sequenziale. Vedete? Comincia da 1 e va fino a 100. Adesso che abbiamo imparato questa sintassi, inseriamo qualcosa su questi 100 file txt. Come facciamo? Utilizziamo il ciclo for, for i in parentesi graffa, 1, punto punto 100, punto txt, do, ecco, ad esempio, ciao, scriviamolo in minuscolo poi vedrete perché, ecco, ciao, su, stiamo redirigendo l'output su qualcosa, su i, su dollaro i, ovvero su ognuno di questi file txt, don. Fatto, controlliamo, ad esempio, il file 1 txt, ciao. Controlliamo il file 2 txt, ciao. Controlliamo il file 100 txt, ciao. Quindi 100 file identici con ciao. Bene. Adesso diciamo che vogliamo sostituire la lettera C minuscola con la lettera C maiuscola. Facciamolo dapprima in questo modo. Cat 1 txt per visualizzare il contenuto di txt e indirizziamo l'output di cat sul comando tr. Tr è per sostituire un carattere, un determinato carattere, noi prendiamo la C minuscola con la C maiuscola. Se facciamo in questo modo, vediamo che abbiamo ciao in maiuscolo, non più in minuscolo. Operando in questo modo, ovviamente non abbiamo cambiato il contenuto del file. Vediamo. Possiamo effettuare la stessa identica operazione, in realtà anche così. tr, c minuscolo, c maiuscolo, minore, 1 txt. Abbiamo visto che la redirezione con il segno maggiore è per redirigere su un file. Con il segno minore tr è semplicemente per dare a questo comando a sinistra l'input da un determinato file. tr accetta normalmente input da t, dalla tastiera, con il segno minore diamo input dal file 1t, 1.txt. Adesso, riuscite a ricordare con quale comando si sostituiva una stringa, ossia una sequenza di caratteri? Perché tr sostituisce un singolo carattere, ma noi abbiamo già visto il comando sed. sed è per effettuare una serie di operazioni, ma noi lo abbiamo utilizzato per sostituire una stringa, un testo. Allora, diciamo che adesso vogliamo utilizzarlo sul file 1txt per cambiare tutta la parola da minuscolo a maiuscolo. Quindi andiamo con sed apici s che appunto sta per sostituire slash ciao in minuscolo che vogliamo sostituirlo con ciao in maiuscolo slash apici è il nome del file. Quindi 1.txt Come vedete abbiamo ciao tutto in maiuscolo. Non abbiamo sostituito il file. Controlliamo non abbiamo sostituito il contenuto del file. Controlliamo con cat cat1.txt ciao e ancora in minuscolo. Bene, cosa facciamo se vogliamo sostituire il contenuto? Andiamo con sed però con l'opzione i sed sed meno i s sostituisci ciao minuscolo con ciao maiuscolo. Facciamo così. Adesso ricontrolliamo il file 1.txt e vediamo che abbiamo ciao in maiuscolo. Se vogliamo sostituire ciao su ogni file andiamo di nuovo con sed ma al posto del nome del file 1.txt mettiamo semplicemente un asterisco. Su questa cartella ci sono dei file ci sono soltanto questi 100 file con estensione txt l'asterisco. L'asterisco quindi sta per 1.txt 2.txt 3.txt eccetera tutti i file qua dentro. Vado così. Adesso controlliamo il file 2.txt ciao in maiuscolo. Controlliamo il file 100.txt ciao in maiuscolo. Bene, adesso diciamo che vogliamo eliminare la parola ciao. Vogliamo eliminare praticamente il contenuto di ogni file. Andiamo sempre con sed abbiamo imparato che con l'opzione i andiamo effettivamente a cambiare il file. Tra apici mettiamo la parola ciao in maiuscolo. e gli diciamo di per sostituire per eliminare di sta per delete elimina ah scusate dovevo mettere ovviamente ogni file. Facciamo così andiamo a controllare adesso il contenuto del file 1.txt assolutamente niente controlliamo il contenuto del file 2.txt assolutamente niente e poi il contenuto del file 100.txt assolutamente niente quindi abbiamo eliminato il contenuto abbiamo eliminato la parola ciao sicuramente starete cominciando a capire che è possibile fare un mondo di cose che non è immaginabile fare in modo grafico operare su diversi file in modo complesso e contemporaneamente è una cosa assolutamente impossibile da affrontare in modo grafico adesso non so fino a che punto potrò arrivare con i miei video con le mie spiegazioni non mi sento il massimo esperto mondiale quindi abbiate un po' di pazienza continuiamo con un altro carattere speciale non ho idea di come si chiama, è questo accento, questo cappellino diciamo così questo indica l'inizio del rigo intanto andiamo a scrivere qualcosa su un file ecco tutto in minuscolo il gatto mangia il topo lo vado a scrivere vado a rediriggere questo output su un file non lo so, topo quindi ecco il mangio il topo redirezione su topo adesso diciamo che voglio ricercare nel file topo la parola il come si fa? grep il sul file topo e vediamo che l'articolo il è evidenziato in rosso entrambe le volte abbiamo l'articolo il due volte e entrambe le volte lo abbiamo evidenziato ma come facciamo se siamo interessati solo al primo il? beh, il primo il si trova ad inizio della riga quindi utilizziamo grep con il simbolo appena imparato questo sta ad indicare l'indirizzo della riga quindi questo simbolo poi il sul file topo topo scusate topo e vedete che questa volta è stato evidenziato solo il primo il il secondo no a questo punto vi consiglio di fare un po' di pratica con tutti i comandi che abbiamo visto fino adesso vi create una cartella test su cui potete tranquillamente lavorare fare tutti gli esperimenti che volete magari esplorate opzioni che non ho trattato andate a leggere in manuale dei diversi comandi che abbiamo visto ad esempio non so man grep e vedrete un manuale abbastanza grande man sed immagino che sia ancora peggio e insomma sperimentate un po' da soli e vedremo cosa impareremo nel nuovo video ciao dal vostro clarintux grazie a tutti